Idee tante, grandi manovre, perché il Cerignola, pur non dovendo mai smarire l'umiltà della matricola, vuole dimostrare di essere all'altezza del palcoscenico professionistico. La prossima intanto dovrebbe essere la settimana giusta per le prime ufficializzazioni. Esiste già una certezza in realtà, Elio Di Toro, che continuerà a essere l'uomo mercato degli ufantini, è stato nei giorni scorsi. Proprio il neopresidente Nicola Grieco arriva a dirgli e la fiducia lo ha già avuto come direttore sportivo nella precedente esperienza da dirigente di riferimento del club giallo-blu. Grieco e Di Toro, in totale sintonia, starebbero lavorando anche per confermare sulla panchina Michele Pazienza, uno dei principali artefici della promozione in Serie C. I presupposti per rivedere lo stesso timoniere alla guida del Cerignola per la terza stagione consecutiva sembrano esserci. Naturalmente si attende la conferma ufficiale sul prolungamento del rapporto di collaborazione. Cambia la categoria, dicevamo, cambia anche il contesto non più dilettantistico ma professionistico e di conseguenza tutti i contratti con i giocatori vanno firmati nuovamente. Ovvio il riferimento che è stato protagonista della vittoria del campionato di Serie D che verrà eventualmente confermato dalla società. Anche per la C ci saranno di sicuro degli inesti importanti per la categoria, non sarà di certo. Rivoluzione totale nella rosa. Siamo nel campo delle ipotesi ma più di un ragionamento, se non è stato già fatto, sarà intavolato con Giancarlo Malcore, capocannoniere del Girone H nelle ultime due stagioni. Potrebbero tornare utili per il nuovo progetto pure i giovani Ismail Aschik classe 2000 e Manuel Botta 2002. Discorso diverso invece. Per il terzino di spinta, Mehdi Dorval classe 2001 che viaggia verso il doppio salto di categoria. Facile immaginare infatti un suo accordo a breve con il Bari. Da non escludere inoltre la possibilità che restino al Monterisi anche Capitano Allegrini, Loiodice e Longo, tre che hanno già assaporato il calcio dei professionisti in carriera. Solo idee però per il momento in attesa delle prime certezze.